Non poteva mancare all'alza bandiera che stamattina ha segnato l'apertura del 93esimo raduno nazionale degli Alpini che si tiene a Rimini in questo fine settimana. La fanfara alpina sezione Abruzzi, composta da moltissimi introdacquesi. Presente anche il primo cittadino Cristian Colasant e il vice sindaco Giuseppe Zuffate, i quali sono andati prima di tutto a visitare lo stand della Cittadella Moderna dove il battaglione Vicenza mette in mostra le principali dotazioni, tutte le capacità di impiego in montagna come nella protezione civile delle moderne truppe alpine. Introdacqua quindi dal ritmo agli Alpini. Il battaglione Vicenza del nonoreggimento è un'unità multifunzionale nata nel 2017 in risposta alle tante calamità naturali che avevano colpito l'Abruzzo e le regioni limitrofe, incendi, terremoti e alluvioni. Il reparto dispone di una componente genio e ha avuto la possibilità di specializzarsi in ambito AIB, soccorso alluvione, sanificazione, allestimento campi grazie a corsi di formazione specifici che li consentono di operare in maniera sinergica con gli assetti di protezione civile nazionale.